musica 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 bene siamo qua con un altro degli tanti pifagi internazionali abbiamo magari visto prima gli ucraini ora abbiamo avventura un team dagli emirati anzi dal cuba insomma da mediorenta ora abbiamo un team degli emirati un team dei emirati in dubai abbiamo Rabi Santina magari qualcuno del ultimo che è stato da Italia ma ora ha parlato inglese sulle presenze in iedro un team di middle east siamo da dubai siamo chiamati per gli emirati quindi abbiamo un club abbiamo diverse nazionalità abbiamo india 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 e anche in Japan, quindi abbiamo partito di tutte le nazionali e abbiamo anche un'ottima campiontra per il club in Dubai ma anche noi abbiamo provato ogni anno attraverso l'endurancese all'interno dell'UAA perché abbiamo anche un campiontra per l'UAA quindi per questo è una diversa esperienza per un tipo di weather Sperialmente, quindi è stato un'ottima esperienza per oggi quindi vediamo come si fa è solo un'ottima esperienza per noi e l'ottima esperienza quindi è un'ottima esperienza è un'ottima esperienza sui'ottima esperienza ma vediamo che all'inizio sono molto più grande ma è un'ottima esperienza C'è stato un po' di spettacolo, è stato un po' di spettacolo, ma è stata un po' di spettacolo, ma è stato un po' di spettacolo. Molto bene, magari ci metiamo un po' di spettacolo, se la scettacolo è vero. E io?